Un percorso nella storia, quello che i passeggeri della stazione Municipio della linea 1 della metropolitana di Napoli percorreranno quando saranno completati i lavori che con un nuovo stanziamento del Cipe dovrebbero entrare ora nella fase decisiva. Sentiamo Diego Dionoro. Dal mare al centro della piazza, un percorso su tappeti mobili attraverso la storia, attraverso le stratificazioni di Napoli e la parte archeologica della stazione Municipio della metropolitana linea 1 che sta prendendo sempre più forma e che grazie all'assegnazione da parte del Cipe di 30 milioni vedrà adesso un'accelerazione nei lavori. Abbiamo dato avvio a questo tavolo di lavoro per cominciare a ragionare su come questa cosa debba essere realizzata in maniera tale che rimanga un segno permanente importante in città. Sarà una delle cartoline, dei biglietti da visita di questa città nel futuro per molti e molti anni. Tempi di realizzazione? Entro l'anno avremo il progetto e a inizio anno prossimo dovrebbero cominciare i lavori di completamento di questa parte quindi 19-20 insomma siamo nell'ambito della visibilità dei mesi. Grazie al patrimonio inestimabile di reperti archeologici ritrovati durante gli scavi questa stazione firmata dal gruppo di lavoro guidato da Alvaro Sizza e Edoardo Souto de Moura sarà una nuova attrazione della città. Penso che va a raccontare un po' la storia di Napoli perché la stazione stessa è una sezione della storia, si comincia nei grechi sotto, romani, angiovini, fino ai spagnoli. Io penso che il risultato va a essere una cosa bellissima perché non si trova un laboratorio storico dove si può lavorare come questo edificio, questa stazione.